Allora, io non ho mai fatto dichiarazioni lettere, elicotteri, aeroplani che passano sopra gli stadi per ringraziare un percorso per me, ho ancora l'emozione addosso per quello che ho vissuto a Sassuolo dove ho conosciuto un ambiente della gente straordinaria con cui ho condiviso delle cose che mi terrò sempre dentro che mi piace esternare dove e con chi dico io però vi assicuro che è un amore veramente grande, è stato un percorso bellissimo per quello ogni volta che rivedo certe persone, leggo le interviste e mi emoziono ancora per quello che è stato il mio trascorso, rivedere i gol di Mistiroli quando abbiamo vinto il primo campionato perché la gente si ricorda solo la Serie A, ma io mi ricordo da dove si passa, come ci si arriva qual è il percorso più bello, vincere il campionato di Serie B è stata veramente una cosa emozionante un bellissimo ricordo, per quello ringrazio tutti